Fortunatamente la situazione qui a Sant'Agata è abbastanza tranquilla, dobbiamo stare molto sereni perché la situazione è sotto controllo, noi siamo regolarmente aperti e attendiamo le persone che purtroppo ci chiamano continuamente chiedendo se siamo aperti, se Sant'Agata è zona rossa e noi continuiamo a dire che non c'è nulla di preoccupante, noi stiamo continuando a fare quello che facevamo anche due mesi fa quando abbiamo iniziato di nuovo la nostra attività e quindi c'è da stare tranquilli. I nostri clienti possono stare tranquilli anche perché noi nei nostri negozi seguiamo tutti i protocolli che abbiamo sempre seguito fin dall'inizio della nostra riapertura. Diciamo che la clientela era tranquilla, era serena, certo con questi nuovi contagi che ci sono stati un po' di paura c'è stata, però ormai sembra che tutto sta tornando alla normalità, quindi tutto sotto controllo. Io ringrazio tantissimo anche il sindaco perché comunque ha confermato questi casi che sono circoscritti quindi non c'è nessuna zona rossa, assolutamente, tutti i nostri negozi sono aperti e smentisco assolutamente tutto ciò che si è detto per la chiusura delle nostre attività, siamo aperti e usiamo tutti i protocolli sanitari come dall'inizio, quindi vi aspettiamo. Un altro messaggio cerco di mandare soprattutto a questi paesi limitrofi che noi siamo qui ad aspettarvi, siete sicuri, tranquilli, potete venire, siamo qui ad aspettarvi.